A Milano il 25esimo MITAM, la mostra internazionale del tessile per l'abbigliamento. All'inaugurazione il ministro per il commercio con l'estero Vittorino Colombo si è soffermato nello stand di un grande complesso laniero italiano, il maggiore del mondo a ciclo completo, dalla lana in vello al prodotto finito. Ecco i tessuti più affermati accanto alle novità. Quest'azienda occupa complessivamente 12.000 lavoratori per la produzione più svariata, dai filati ai tessuti, dalle coperte alle confezioni. Il segno distintivo di questo gruppo tessile è costituito dallo speciale trattamento antimacchia dei tessuti. Restano intatte le caratteristiche del prodotto in lana, protetto dai pericoli di qualunque tipo di sporco dalle macchie allo smog. Con questo trattamento si riduce al minimo ogni manutenzione. Lo sporco si toglie con estrema facilità, senza lasciare alone e i colori restano sempre brillanti come nuovi. Visto la differenza? È la nuova frontiera del tessile, messa a disposizione del pubblico di tutto il mondo. La migliore difesa per una gamma di confezioni che non hanno rivali. La migliore difesa per una gamma di confezioni che non hanno rivali. La migliore difesa per una gamma di confezioni che non hanno rivali. La migliore difesa per una gamma di confezioni che non hanno rivali. La migliore difesa per una gamma di confezioni che non hanno rivali. La migliore difesa per una gamma di confezioni che non hanno rivali. Grazie.